L'avete capito la storia del film Hatchkey? Si? Bene, bene, scusateci ancora. Bene, allora vorrei invitare Edgar Tick e Laila qui accanto a me. Belli tutti e cinque, ma ora che abbiamo loro due qui direi bravi a tutte e due. Questa è un po' di corti film, quindi abbiamo due direttori di musica. Laila, vuoi dire come cominciamo con le signore? Ci vuoi dire qualcosa? Vogliamo vedere se ci sono delle domande? Vuoi dire te qualche cosa sul tono? Vuoi dire un po' di film? Ma se vuoi dire un po' di domande? Vuoi dire un po' di domande? Prima di domande, ovviamente, voglio dire che scegliere Six Cup Chime è stata una grande esperienza. Questa è stata una reale slumpo in Mumbai. E non era un po' molto facile, era un po' molto difficile. ma ho avuto un staff competente che ovviamente lavoravano con me per un obiettivo comune per ottenere un buon film. Allora, vorrei soltanto dire, rispetto al mio corto, che è stato girato in Nona Slum di Bombay, quindi è vero, l'ambientazione è assolutamente vera, e come non è stato tanto facile, è un luogo dove non è così facile girare, però devo dire che sono stata supportata dalle persone che lavoravano con me, i miei collaboratori, che quindi insieme, con buona volontà, siamo riusciti a raggiungere il nostro scopo. Ci sono delle domande per Laila? Sì, c'è una domanda lì? Sì. Lady's first for the question. Is the child star, was he from the slum or was he an actor? Voleva sapere se il bambino era anche lui dello slum o se era un attore. Sì, no, non era un bambino, non era anche un attore, era solo un bambino che ho trovato da un workshop, e ho sentito che potrebbe giocare il bambino, e, come direttore, ho fatto alcuni bambini con lui, e l'impostavo per la mia percezione, e vedete il risultato su screen. E devo dire che su questo ragazzo è stata una scelta splendida di programmarli così, come dopo la prima di sapere. Ho girato a New York, dove c'è una gran quantità di autori fantastici. In effetti, c'è una scelta, dove vedete Ronnie flanked con due altri attori. Oltre di loro sono abbastanza buoni per giocare le role in film, quindi ho sentito molto fortunato che anche con le role secondarie ho avuto veramente forte performance. appunto, c'è una scena, per esempio, dove lui è con gli altri venditori, e sono tutte persone veramente bravissime, ottimi attori, per cui anche in qualsiasi scena le loro performance sono... And there's only one exception to what I'm saying, which is the little girl. The little girl is my brother's daughter. Allora, l'unica eccezione è la ragazzina, che è la sua nipotina, figlia del fratello. Sì, è vero. And actually, I take a lot of joy, and this is the first time that I've done this with a family member. And actually, I would like to also put my mother and my father in a film. And I'm going to be shooting something in February, and I'm trying to bring my mom into the fold. So we'll see. In realtà, appunto, è l'ultima volta che uso, diciamo, metto un membro della mia famiglia in un mio lavoro, e devo dire che è una cosa che mi piace molto e vorrei coinvolgere anche mio padre e mia madre. In realtà ho un'idea, ho un progetto, spero appunto di inserire mia madre nella cosa che girerò a febbraio, questo progetto in me. And I just want to say one last thing, because we're in Italy, is that my production designer is from Italy, and my first assistant director is also from Italy. Giuseppe is my aiutaregista, and Valeria is my decoratrice. Allora, voleva solo aggiungere che nella sua truppa ci sono questi due italiani, appunto come li ha già presentati lui, il nome di storia, il prezzo di uno splendido italiano. Grazie. Grazie. Grazie.